A Messina la polizia ha tratto in arresto una 34enne che coltivava cannabis in casa. Aveva allestito l'intero piano di un immobile in disuso di cui aveva la piena disponibilità rendendolo un vero e proprio essiccatoio. All'arrivo dei poliziotti delle volanti nello stabile, sito in località Santa Lucia sopra Contesse, le infiorescenze di cannabis stavano appese su fili di acciaio che il 34enne messinese aveva collocato tra due pareti perimetrali. Ad attirare l'attenzione degli agenti il forte odore tipico della marijuana che proveniva dallo stabile. Riusciti ad accedere all'interno dell'edificio, gli operatori della polizia di Stato hanno ricostruito che si trattava di una vera e propria attività di produzione verosimilmente destinata alla vendita. La sostanza stupefacente veniva infatti coltivata in un giardino per poi essere essiccata al primo piano stesa sui fili ad asciugare. Un'altra parte della sostanza invece veniva lasciata essiccare in un altro appartamento in uso al giovane messinese, su tovaglie di carta trovate adagiate sul tavolo della cucina. In un terzo stabile, infine, sempre in uso al 34enne, i poliziotti hanno trovato una bilancia, due buste e ulteriori due contenitori con all'interno germogli e semi ancora in confezioni sigillate, pronti per essere piantati, nonché una dose di marijuana preconfezionata. In totale, gli agenti delle volanti hanno sequestrato, a carico del produttore, circa 2,7 kg di marijuana. Il 34enne è stato pertanto tratto in arresto dagli agenti per i reati di coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e su disposizione dell'autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari, misura confermata anche a seguito dell'udienza di convalida. Un arresto per spaccio di stupefacenti anche a Palermo. Si tratta di un trentenne colto in flagrante dai carabinieri. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno tratto in arresto un trentenne palermitano, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari della stazione di San Filippo Neri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa nel quartiere Zen, hanno colto in flagranza lo spacciatore mentre stava cedendo la droga a un acquirente. L'uomo, infatti, è stato sorpreso intento a recuperare la dose nascosta sotto una mattonella, ricevendo in cambio del denaro. Immediato è scattato il controllo degli uomini dell'arma, che sono quindi intervenuti bloccando sia il pusher che il cliente. La perquisizione ha consentito di rinvenire oltre 50 dosi di hashish, più diversi involucri contenenti marijuana già suddivisi e destinati alla vendita al dettaglio, nonché 100 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il compratore è stato segnalato quale assuntore alla locale prefettura. La droga è stata sequestrata e verrà trasmessa al competente laboratorio di analisi per le sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo. Il trentenne, su disposizione del pubblico ministero, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L'arresto è stato convalidato e il giudice, per le indagini preliminari, ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. A Rosolini, invece, nel Siracusano, un 47enne finito in manette nascondeva infatti della sostanza stupefacente all'interno di un forno. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Noto, unitamente a quelli della stazione di Rosolini, hanno tratto in arresto un pregiudicato di 47 anni del posto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti e armi. A seguito di una perquisizione domiciliare, i militari dell'arma hanno rinvenuto, all'interno di un forno a legna, circa 450 grammi di sostanza stupefacente che è stata sequestrata, così come un calciolo di fucile tagliato sotterrato nel giardino e 32 cartucce calibro 12 occultate in un pozzetto di plastica scavato nelle adiacenze della proprietà. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa. Da Rosolini a Catania, dove un 25enne è stato invece denunciato dalla polizia per ricettazione, il giovane infatti nascondeva in garage diversi oggetti rubati. Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un giovane catanese, nel corso di mirate attività investigative compiute d'iniziativa dalla squadra mobile per la repressione, in particolare dei reati contro il patrimonio, sono stati svolti approfonditi controlli ed eseguite alcune perquisizioni domiciliari. Sulla base delle risultanze di un'accurata attività info-investigativa, i poliziotti hanno fatto accesso in due distinti immobili ubicati nel quartiere San Cristoforo, i cui ingressi erano protetti da porte munite di grossi lucchetti, che sono stati scardinati grazie all'intervento dei vigili del fuoco appositamente fatti intervenire sul posto. All'interno degli edifici, gli investigatori hanno rinvenuto materiale di ingente valore provento di un furto avvenuto all'interno di un negozio del centro. Nello specifico, in un garage, sono stati recuperati due personal computer e una stampante multifunzione, mentre in un secondo immobile, ubicato nelle immediate vicinanze, sono state rinvenute quattro stampanti, numerosi personal computer, diversi monitor e casse acustiche, tutti trafugati dallo stesso negozio. Durante le operazioni di polizia, gli agenti hanno anche ritrovato un ciclomotore parcheggiato all'interno del garage oggetto della perquisizione, mezzo che dai successivi accertamenti si è rivelato provento di un precedente furto. Ultimate le attività di ricerca, tutti i beni rinvenuti, incluso il ciclomotore, sono stati trasportati presso gli uffici della squadra mobile, dove sono state condotte le operazioni di riconoscimento della refurtiva da parte dei legittimi proprietari, ai quali, espletate le formalità di rito, essa è stata riconsegnata. A seguito dell'operazione, i poliziotti hanno individuato un 25enne già noto agli uffici di polizia, il quale aveva accesso ai luoghi dove è stata ritrovata la refurtiva e che pertanto è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione. E sempre a Catania tre soggetti sono stati denunciati dalla polizia, gli agenti infatti li hanno sorpresi mentre tentavano di rubare un'autovettura parcheggiata. Vediamo il servizio. La polizia di Stato ha denunciato tre persone per tentato furto aggravato, a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa di persone sospette intente ad armeggiare su un'auto in sosta, le volanti sono intervenute tra la via Fiamingo e la via Conte Ruggero, dove si sono messe alla ricerca delle persone segnalate, di cui era stata fornita anche una descrizione. Uno in particolare veniva descritto con indosso un cappellino a pois e una mascherina chirurgica. Lo stesso soggetto era stato indicato anche come colui che aveva armeggiato sull'autovettura in sosta, impugnando un oggetto non meglio descritto. Il complice invece veniva descritto come un soggetto indossante, tra l'altro un berretto nero da baseball. Giunti sul posto, gli agenti hanno avuto ulteriore aiuto da parte di un residente che a loro indicato la via di fuga dei tre, che a cortisi dell'imminente arrivo delle volanti si erano allontanati. In supporto agli agenti, in quel frangente, sono intervenuti anche gli operatori del 118, che trovandosi nelle vicinanze avevano visto due persone sospette allontanarsi a bordo di un'auto in direzione di via Oberdan. La sala operativa ha dunque diramato una nota di ricerca della vettura indicata, che è stata rintracciata in corso dei martiri della libertà con a bordo tre uomini, due dei quali corrispondenti alle prime segnalazioni. La vettura è stata fermata e gli occupanti sottoposti al controllo. Visti molteplici precedenti di polizia, alcuni dei quali in materia di reati contro il patrimonio, i tre sono stati perquisiti, così come l'autovettura, al cui interno sono stati rinvenuti un coltello multifunzione del tipo svizzero e quattro cacciaviti. Sono stati inoltre rinvenuti sia il berretto nero da baseball che il cappello a pua e la mascherina chirurgica, tutto quanto corrispondente alle prime segnalazioni giunte in sala operativa. Quanto rinvenuto è stato sequestrato? Durante il sopralluogo, eseguito tra la via Fiammingo e la via Conte Ruggero, gli agenti hanno individuato la vettura sulla quale i soggetti erano stati visti armeggiare, rilevando su di essa chiari segni riconducibili a un tentativo di furto. La macchina, infatti, aveva il finestrino anteriore del lato passeggero scalfito. Visti i fatti accertati e gli elementi raccolti, i tre sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con quella più afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle conviventi, emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di un trentenne indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha inasprito la misura cautelare alla luce delle violazioni da parte dell'indagato del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di calcio e della Catania tornato a respirare, grazie alla vittoria per 2-0 sul campo del Brindisi. Allora andiamo ad ascoltare le parole dell'allenatore del Catania, mister Tabbiani, a fine partita. Abbiamo cercato delle soluzioni, siamo stati non velocissimi in alcune situazioni, ma è anche vero che il Brindisi per un po' di minuti è riuscito a scivolare veloce con le mezzali. Poi più avanti è andata la partita, più gli spazi sono allargati. Già negli ultimi dieci del primo tempo sembrava che stessimo prendendo un po' di campo e alla fine si era un po' visto che nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni che nel primo tempo non riuscivamo a creare e quindi siamo stati pazienti nel primo tempo anche se dobbiamo migliorare nella fase di possesso, nella velocità di determinate cose. Dobbiamo liberarci un po' di preoccupazioni perché dopo l'1-0, che è la prima volta che riusciamo a gestire così bene il vantaggio, a parte Caserta, ma era una partita diversa, sembrava che ci fossimo liberati di qualcosa, abbiamo iniziato a giocare molto più velocemente. È anche vero che troviamo spesso squadre chiuse, quindi non è facile trovare subito dei buchi, siamo stati equilibrati, che è una cosa importante perché comunque non abbiamo perso distanze, nonostante la partita ti poteva portare ad alzarti con tanti giocatori a concedere delle ripartenze pericolose. Nel complesso sono contento, più che altro sono contento per i ragazzi perché siamo usciti domenica un po' malconci dal risultato, mentalmente non era facile, invece siamo rincompattati. Da giovedì dopo Monterosi ho visto tante cose positive, domenica non siamo riusciti a farlo vedere in campo anche se la partita poi ha preso delle pieghe che sembrava tutto abbastanza scritto. Ora abbiamo l'obiettivo di esultare oggi, di pensare a domenica e di cercare di ritornare nel nostro stadio e avere più credibilità da parte dei tifosi che ci hanno sempre aiutato e se vedono che magari iniziamo a ingranare sotto tanti aspetti possono veramente essere l'arma in più che ci può dare una mano. Parliamo ancora di sport. Cresce l'attesa a Francavilla di Sicilia per la sesta edizione di Sotto il Vulcano Trail, la manifestazione di Trail Running con due percorsi scenografici tra l'Etna e le gole dell'Alcantara. Il servizio. C'è grande attesa per l'evento Sotto il Vulcano Trail, la manifestazione di Trail Running in programma a Francavilla di Sicilia domenica 5 novembre. Si tratta della nona tappa del campionato siciliano denominato Trail Sicilia Challenge valida per la classifica finale del campionato regionale CSI. La gara agonistica prevede una distanza di 25 chilometri per circa 1200 metri di dislivello positivo ed è affiancata dalla competizione short di 11 chilometri per 569 metri di dislivello positivo riservata agli amanti delle escursioni e a chi intende avvicinarsi al mondo outdoor senza esagerare con i chilometri. La competizione principe parte alle 9.30 da Francavilla di Sicilia, paese di 3.000 abitanti situato nel centro della valle dell'Alcantara al nord dell'Etna sulla sponda sinistra del fiume Alcantara. La 11 chilometri parte invece alle 10.30 all'interno delle gole dell'Alcantara, ovvero nel bel mezzo di un canyon naturale con pareti alte fino a 25 metri. Il percorso è altamente scenografico. Da Francavilla di Sicilia si corre in direzione di Castiglione di Sicilia, antico paese situato in posizione panoramica su una collina nel versante nord dell'Etna. Quindi si procede lungo la strada collinare in territorio di lingua glossa con vista mozzafiato sul vulcano. Poi il suggestivo passaggio all'interno delle gole dell'Alcantara e infine la scalata verso il borgo di Motta Camastra tra Vigneti, Uliveti e i ruderi dell'antico castello e il taglio del traguardo a Francavilla, punto di partenza. La gara short parte come detto dalle gole dell'Alcantara e segue l'ultimo tratto della competizione lunga. Si è svolta a Giarre nel Catanese la Veglia dei Santi in un duomo gremito di giovani. La vigilia di tutti i Santi è stato un giorno di festa, gioia e santità per i giovani della diocesi di Acireale, invitati a partecipare alla veglia che si è tenuta a Giarre nella parrocchia di Santi Sidoro Agricola, organizzata dalla pastorale giovanile diocesana alla presenza di Monsignor Antonino Raspanti. Oltre 600 i ragazzi accompagnati dai propri sacerdoti che hanno gremito il duomo muovendo la propria gioventù alla ricerca di una santità possibile. Don Orazio Sciacca, direttore della pastorale giovanile acese, ha preso spunto dall'esortazione apostolica, gaudete ed exultate, che nelle sue pagine racchiude il segreto dei cinque atteggiamenti da tenere nella vita di tutti i giorni. Sopportazione, pazienza e mitezza, gioia e senso dell'umorismo, audacia e fervore, in comunità, in preghiera continua. Sono espressioni queste che aprono le porte alla santità e portano dentro di sé non uno sforzo estremo, misto a sterili rinunce, quanto un'esperienza di amore gratuito che Dio offre ai suoi figli. Ospiti della serata, alcuni ragazzi dell'associazione Attendiamoci, che nasce grazie a Don Valerio Chiovaro. Il sacerdote, nel settembre del 2021, intuisce la necessità di avere un luogo in terra calabrese che sia casa di formazione e crescita per i giovani. Da quel momento l'esperienza dell'associazione cresce e si fa testimonianza per altri ragazzi in cammino e in ricerca. La veglia del 31 ottobre si conferma anche quest'anno come un'occasione imperdibile per coloro che vogliono percorrere i sentieri di bene nella vita. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.